Nella recensione di oggi andiamo ad esplorare quelle che sono le caratteristiche principali dell'App Store. Per farlo abbiamo utilizzato un iPad 2. Per entrare nell'App Store basta premere sull'icona blu che è possibile trovare nella barra delle applicazioni oppure nella schermata principale. La finestra principale è strutturata in modo molto intelligente. In alto abbiamo una carrellata di alcune applicazioni in evidenza. Nella parte sottostante invece troviamo una prima suddivisione dell'applicazione. In questo caso i due gruppi novità e consigliati dallo staff. La parte più importante dello Store di Apple è costituita dalla barra inferiore attraverso la quale è possibile accedere alle varie sezioni. Vediamo una per una le diverse sezioni disponibili. Attraverso Genius sarà possibile ottenere una lista di quelle che sono le applicazioni potenzialmente adatte ai nostri gusti. Nella sezione Classifiche troviamo le migliori applicazioni organizzate in tre gruppi, a pagamento, gratuite e più redditizie. Nella sezione Categorie troviamo quella che è la vera e propria suddivisione ufficiale delle applicazioni in funzione del loro genere di appartenenza. Accedendo ad una sezione possiamo scorrere fra le applicazioni con l'uso dei tasti direzionali e riorganizzarle in funzione del nome, della popolarità o della data di pubblicazione. Le ultime due sezioni disponibili sono relative alle applicazioni che abbiamo acquistato e agli aggiornamenti disponibili per quelle che abbiamo installate. Una volta trovata l'applicazione desiderata basterà cliccare su di essa per aprire la pagina dedicata in cui troveremo tutte le informazioni necessarie. A sinistra troveremo le informazioni principali del software, versione, dimensione e giudizio, mentre sulla colonna di destra la descrizione è dettagliata arricchita con diverse immagini e commenti degli utenti. L'installazione del software è molto semplice. Le applicazioni possono essere gratuite o a pagamento. Nel primo caso basterà premere il tasto installa e dare conferma con l'ok per procedere con il download e l'installazione automatica. Nel secondo caso i negozi hanno un sistema di pagamento associato all'account utente, attraverso il quale una volta acquistata l'applicazione viene effettuato il pagamento che viene detratto dalla carta di credito. Ad operazione eseguita potremo lanciare l'applicazione cliccando sulla sua icona all'interno della schermata dei programmi. L'App Store è in continua crescita. Ad oggi vanta 450.000 applicazioni disponibili, tra quelle per iPhone, iPod Touch ed iPad. Con tutte queste potenzialità potremo ogni giorno sbizzarrirci con applicazioni sempre nuove ed arricchire di funzionalità il nostro dispositivo Apple.